In questo video, vi mostrerò come recuperare le foto cancellate su iOS 18. Il nuovo aggiornamento ha introdotto diverse modifiche all'app Photo, cambiando la procedura di recupero. Per iniziare, aprite l'app Photo e scorrete verso il basso fino alla sezione Nutility. Selezionate Neeliminati di recente. Vi verrà richiesto di verificare la vostra identità tramite Face ID. Per recuperare una singola foto o un singolo video, selezionatelo e cliccate su Recupera. Per recuperare più elementi, cliccate sul Selezionani in alto a destra, scegliete le foto e i video desiderati, quindi cliccate sull'icona con i tre puntini e selezionate Recupera. Se avete trovato utile questo video, lasciate un mi piace. Grazie per la visione!